Cami Gruppo Consigliari a confronto sul tema della sanità. È ancora in corso la riunione che dovrebbe portare alla stesura di un documento condiviso da presentare domani mattina alla ripresa dei lavori consigliari. Un confronto lungo e serrato, d'altronde il tema, oggetto della discussione, non richiede superficialità. Le raccomandazioni arrivano dal neocoordinatore cittadino di Forza Italia Antonio Menchinelli. Forza Italia Ancalza Menchinelli auspica che in questa sede il senso di responsabilità di ciascuna forza politica nei confronti della città prevalga sulle logiche di appartenenza partitica e di prerogative personali, ma che finalmente uniti da uno spirito di autentica risposta nei confronti dei bisogni della collettività, si restituisca alla sanità dell'Abruzzo interno la dignità che merita. Il giovane coordinatore non manca di ricordare come la politica sanitaria regionale applicata sull'ospedale di Sulmona è stata fallimentare, poiché non ha tenuto in debito conto la peculiarità territoriale e climatica del nostro bacino territoriale, nonché la difficoltà di collegamento dei mezzi pubblici con altri presidi di primo livello, sui quali il nostro presidio è stato costretto sempre più a gravitare.